Una bella sorpresa per Monica Setta, che aveva deciso di chiudere il suo cuore dopo le ultime delusioni sentimentali e concentrarsi sulla famiglia e gli amici più cari. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere. Ero certa che non avrei mai più pronunciato certe frasi, invece nel giro di due mesi, mi sono trovata a dedicare a un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez, ti amo non per chi sei, ma per chi sono quando sto con te. Sono innamorata e anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi. Oltre a un nuovo amore il 2021 ha portato a Monica Setta una prestigiosa collaborazione in radio, da sempre la sua grande passione. In più la figlia Gaia si è laureata a pieni voti in giurisprudenza e ha iniziato il praticantato da avvocato. Da non dimenticare, poi, che nell'ultimo anno la Setta ha scritto due libri, Il presidente La nuova Italia di Draghi e Quadrare i conti. Grazie a tutti.